Un minuto di raccoglimento per le vittime degli attentati di Parigi ha preceduto l'apertura della seduta odierna di Consiglio Comunale nel Palazzo di Via Verdi. La discussione ha preso il via con gli interventi e i sensi dell'articolo 37 del regolamento, poi l'invito del sindaco De Magistris rivolto alle forze presenti in aula a contribuire all'approvazione delle delibere all'ordine del giorno. Abbiamo una maggioranza numerica flebile ma è quel flebile forte, cioè quel flebile che ha sempre retto in questi anni anche nei momenti molto difficili. Però siccome quando hai numeri risicati basta che uno è impedito a venire in Consiglio Comunale o piuttosto un altro che non c'è, che si rallentano i lavori del Consiglio. Siccome io credo che il Consiglio Comunale debba produrre nell'interesse non del sindaco ma della città, ho fatto appello, siccome si tratta di delibere che poi non è che abbiano necessariamente una grande connotazione ideologico-politica, ha un appello soprattutto alle forze che non sono intrinsecamente di opposizione nei confronti di questa amministrazione, perciò ho citato Sim e anche altri, di aiutare il Consiglio a poter produrre con maggiore celerità i suoi frutti. E mi pare che l'appello sostanzialmente è stato colto. Poi vedremo, qua siamo ora di pranzo, vedremo come andrà il Consiglio Comunale, se poi questo si traduce in atti concreti o meno. E poi c'è anche un ragionamento di tipo politico, cioè che io credo che si debbano recuperare anche forze, quindi non solo un punto di vista tecnico, però questo non riguarda il Consiglio di oggi. Mi fai la domanda e io te la rimbalzo per il futuro. C'è chiaramente una voglia da parte mia, ma non solo da parte mia, di allargare comunque le aree di sostegno all'azione che stiamo mettendo in campo e andare a recuperare anche quelli che momentaneamente in questi mesi sono allontanati. La sinistra italiana può aiutare a ricomporre componenti della sinistra che oggi sono divise, questo è senza dubbio.